Leo. Leo aveva progettato le pareti della mensa in modo che mostrassero scene di vita vera del campo mezzo sangue. All'inizio aveva pensato che fosse un'idea fantastica. Adesso non era più tanto sicuro. Quelle scene familiari, i canti intorno al falò, le cene al padiglione, le partite di pallavolo vicino alla casa grande, sembravano soltanto rattristare i suoi amici. Più si allontanavano da Long Island, più la cosa peggiorava. Il fuso orario continuava a cambiare, e Leo percepiva maggiormente la distanza ogni volta che guardava le pareti. Lì in Italia il sole era appena sorto. Al campo mezzo sangue, erano ancora nel cuore della notte. Le torce fiammeggiavano sulla soglia delle capanne. La luna scintillava sulle onde della baia di Long Island. La spiaggia era coperta di impronte, come se una folla di persone se ne fosse appena andata. Trasalendo, Leo si rese conto che il giorno prima era stato il 4 luglio. Si erano persi la festa annuale del campo sulla spiaggia, con gli straordinari fuochi d'artificio preparati dai suoi fratelli e sorelle della casa 9. Decise di non parlarne con il resto dell'equipaggio, ma si augurò che i suoi amici al campo avessero festeggiato alla grande. Anche loro avevano bisogno di risollevarsi il morale. Ripensò alle immagini che aveva visto nel suo sogno. Il campo in macerie, disseminato di corpi, Ottaviano nel campetto di pallavolo, che parlava come se niente fosse, con la voce di Gea. Abbasso lo sguardo sulla colazione. Uova e pancetta. Quanto avrebbe voluto poter spegnere i video alle pareti. Allora, esordì Jason. Ora che siamo qui, si sedette a capotavola quasi in automatico. Da quando avevano perso Annabeth, Jason aveva fatto del proprio meglio per comportarsi da leader. Visto il suo passato di pretore al campo Giove, probabilmente ci era abituato. Eppure Leo intuiva che era stressato. I suoi occhi erano più scavati del solito e, cosa del tutto inconsueta, i suoi capelli biondi erano scompigliati. Come se avesse dimenticato di pettinarci. Leo lanciò un'occhiata agli altri intorno al tavolo. Anche Heisel aveva lo sguardo stanco, ma del resto era stata in piedi tutta la notte per guidare la nave fra le montagne. Portava i capelli color cannella legati all'indietro con una bandana, cosa che le conferiva un'aria da dura e che Leo trovava sexy, per poi naturalmente sentirse ne subito in colpa. Seduto accanto a lei c'era il suo ragazzo, Frank Jung, vestito con pantaloni pieni di tasche e una maglietta ricordo di Roma con la scritta Ciao, su cui campeggiava anche il vecchio distintivo da centurione, sebbene ormai i semidei dell'argo 2 fossero i nemici pubblici numeri uno al campo Giove. La sua espressione cupa non faceva che rafforzare la sfortunata somiglianza con un luttatore di sumo. Poi c'era il fratellastro di Heisel, Nico di Angelo. Cavoli, lui gli faceva venire la tremarella. Se ne stava seduto con la schiena appoggiata alla sedia, il giubbotto d'avviatore, la maglietta ai jeans neri, quello di oso anello col teschio al dito e la spada dell'ostige al fianco. La zazzera di capelli neri e spettinati sembrava fatta di ali di cuccioli di pipistrello. Aveva gli occhi tristi e vuoti, come se avesse scrutato nelle profondità del tartaro, cosa peraltro vera. L'unica assente era Piper, di turno al timone insieme al coach Edge, il loro accompagnatore nonché satiro ufficiale. A Leo dispiacque che l'amica non ci fosse. Piper sapeva sempre come calmare le acque con quei suoi scherzetti da Afrodite. E dopo gli ultimi sogni gli avrebbe fatto proprio comodo un po' di calma. Ma d'altro canto, forse era un bene che fosse sul ponte a fare compagnia al vecchio satiro. Lì nelle antiche terre non dovevano mai abbassare la guardia. E Leo non si sarebbe sentito tranquillo a lasciare Edge da solo alla guida della nave. Il satiro era ipersensibile e il timone aveva un sacco di pulsanti lucenti e pericolosi, che potevano far saltare allegramente in aria i pittoreschi paesini italiani che stavano sorvolando. Leo era talmente immerso nei propri pensieri da non rendersi neppure conto che Jason stava ancora parlando. «La casa di Ade», stava dicendo. «Niko?» Il figlio di Ade drizzò la schiena e si avvicinò di più al tavolo. «Questa notte ho parlato con i morti». Lo disse così, neanche si trattasse di un SMS. «Ho saputo qualcos'altro su ciò che ci troveremo ad affrontare», continuò. «Nell'antichità, la casa di Ade era una grande meta di pellegrinaggio per i greci. Andavano a parlare con i morti e a onorare i loro antenati». Leo aggrottò la fronte. «Un po' come nel dia dello Smuertos». Mia zia Rosa prendeva queste cose molto sul serio. E ripensò a quando lei lo trascinava al cimitero di Houston, dove pulivano le tombe dei parenti e lasciavano offerte come limonata, biscotti e fiori freschi. Sia Rosa lo costringeva a rimanere per un picnic, come se familiarizzare con i morti facesse bene all'appetito. Frank sbuffò. «Anche per i cinesi è così. Il culto degli antenati, le tombe da ripulire primavera». Lanciò un'occhiata a Leo. «Tua zia sarebbe andata d'accordo con mia nonna». Leo si raffigurò una scena terribile in cui zia Rosa e una vecchietta cinese, entrambe vestite da lottatrici, si lanciavano l'una contro l'altra una serie di mazze chiodate. «Sì, sono sicuro che sarebbero andate d'amore e d'accordo». Nico si schiarì la voce. «Molte culture hanno tradizioni legate a una stagione specifica per onorare i morti, ma la casa di Ade era aperta tutto l'anno. I pellegrini potevano davvero parlare con gli spiriti. In Grecia, questo luogo si chiamava Necromantion, l'oracolo della morte. Si attraversavano diversi livelli di gallerie, lasciando offerte e bevendo pozioni speciali». «Pozioni speciali?» borbottò Leo. «Slurp?» Jason gli scoccò un'occhiata della serie «Bello, ora basta». «Nico, va avanti». I pellegrini credevano che ogni livello del tempio li avvicinasse di più agli inferi, finché il defunto non gli compariva davanti. E se gradivano le offerte ricevute, i morti rispondevano a tutte le loro domande e forse si spingevano anche a predire il futuro. Frank tamburellò le dita sulla tazza. «E se invece non gradivano le offerte?» «Alcuni pellegrini non trovavano nulla», rispose Nico. «Altri impazzivano o morivano dopo aver lasciato il tempio. Altri ancora si perdevano nelle gallerie e non tornavano più». «Il punto è che Nico ha trovato delle informazioni che potrebbero aiutarci», intervenne Jason. «Esatto». Nico non sembrava molto entusiasta. «Lo spirito con cui ho parlato stanotte. In vita era un sacerdote di Ecate. Ha confermato ciò che la dea ha detto a Hazel ieri all'incrocio. Nella prima guerra dei titani, Ecate combatté per gli dèi. Uccise uno dei giganti, quello che era stato concepito come l'anti-Ecate. Si chiamava Clizio. Un tizio scuro, intuì Leo, avvolto nell'ombra. Hazel si voltò a guardarlo con gli occhi socchiusi. «Come fai a saperlo?» «Beh, ho fatto un sogno». La notizia non sorprese nessuno. La maggior parte dei semidei faceva incubi molto reali su quello che stava capitando in giro per il mondo. Tutti ascoltarono con attenzione il racconto. Leo cercò di non guardare le immagini del campo mezzosangue sulle pareti mentre lo descriveva in macerie. Disse loro del gigante oscuro e della strana donna in cima alla collina, che gli offriva due possibilità di morte. Jason scansò il piatto di frittelle che aveva davanti. «Dunque, quel gigante è Clizio. Suppongo che stia facendo la guardia alle porte della morte. E che ci stia aspettando». Frank arrotolò una frittella e si mise a masticare. Non era tipo da permettere alla morte imminente di ostacolare una robusta colazione. «E la donna nel sogno di Leo?» «Quello è un problema mio». Hazel giocherellava con un diamante che si passava fra le dita. Ecate ha parlato di una formidabile nemica nella casa di Ade, una maga che nessun altro poteva sconfiggere a parte me, usando la magia. «Tu conosci la magia?» chiese Leo. «Non ancora». «Ah». Il figlio di Efesto tentò di trovare qualcosa di incoraggiante da dire, ma ricordava bene gli occhi pieni di rabbia della donna nel sogno. Il modo in cui la sua presa d'acciaio gli aveva bruciato la pelle. «Ha idea di che sia». Hazel scosse la testa. «So solo che...» lanciò uno sguardo a Nico e fra loro ci fu una sorta di discussione muta. Leo ebbe la sensazione che i due avessero già parlato più volte in privato della casa di Ade e che non condividessero tutte le informazioni con gli altri. «So solo che non sarà facile batterla», concluse Hazel. «Però una buona notizia c'è», aggiunse Nico. «Lo spirito con cui ho parlato mi ha spiegato come Ecate sconfisse Eclizio nella prima guerra. Usò le torce per dargli fuoco ai capelli e il gigante morì tra le fiamme. In altre parole, il fuoco è il suo punto debole». Tutti guardarono il figlio di Efesto. «Oh». Leo sospirò. «Ok». Jason annui con far incoraggiante, come se fosse una notizia fantastica. Come se si aspettasse che Leo si avvicinasse a quella gigantesca massa di tenebre, sganciasse qualche palla di fuoco e risolvesse tutti i loro problemi. Leo non voleva demoralizzarlo, ma gli sembrava ancora di sentire la voce di Gea. «È il vuoto che consuma ogni magia, il freddo che consuma ogni fiamma, il silenzio che consuma ogni parola». Ed era piuttosto sicuro che ci sarebbe voluto più di un paio di fiammiferi per dare fuoco a quel gigante. «È una buona pista», insistette Jason. «Almeno sappiamo come uccidere il gigante. E questa maga…» «Beh, se Ecate è convinta che Hazel sia in grado di sconfiggerla, lo sono anch'io». Hazel abbassò lo sguardo. «Ora dobbiamo solo raggiungere la casa di Hade, farci strada combattendo contro le forze di Gea e contro un manipolo di fantasmi», aggiunse Nico, cupo. «Gli spettri del tempio potrebbero non essere amichevoli». «E trovare le porte della morte», proseguì Hazel. «Sempre che riusciamo ad arrivarci in contemporanea con Percy e Annabeth e salvarli». Frank inghiottì una fritella. «Possiamo farcela, dobbiamo farcela!» Leo ammirò il suo ottimismo. Avrebbe tanto voluto pensarla anche lui così. «Allora, questa deviazione…» «Secondo i miei calcoli, ci vorranno 4-5 giorni per raggiungere l'epiro, sempre che non ci si mettano di mezzo ritardi o attacchi di mostri vari e compagnia bella». Jason sorrise amareggiato. «Proprio il genere di cose che non ci succedono mai?» Leo guardò Hazel. «Eccate, ti ha detto che Gea stava progettando il suo grande party del risveglio per il primo agosto, giusto? Per la festa di chi?» «Spess, la dea della speranza». Jason girò la forchetta. «In teoria questo ci lascia abbastanza tempo. Siamo solo al 5 luglio. Dovremmo riuscire a chiudere le porte della morte, trovare il quartier generale dei giganti e impedire loro di risvegliare Gea». «In teoria», confermò Hazel. «Ma vorrei ancora capire come riusciremo ad attraversare la casa di Ade senza rischiare la pazzia o la morte». Nessuno suggerì idee utili. Frank mise giù il rotolo di frittelle come se all'improvviso non fosse più così buono. «È il 5 luglio?» «Oh, cavoli, non ho neanche pensato che...» «Ehi, che problema c'è?» intervenne Leo. «Tu sei canadese, giusto? Non mi aspettavo mica che mi facessi un regalo per la festa dell'indipendenza. Non è obbligatorio. Non è questo. Mia nonna mi ha sempre detto che il 7 era il mio numero sfortunato. Un numero fantasma». «Non le è piaciuto quando le ho raccontato che eravamo in 7 in questa impresa. E il luglio è il settimo mese». «Sì, ma...» Leo tamburellò nervosamente le dita sul tavolo. Si accorse che la sequenza di colpi non era casuale. Stava tamburellando «ti voglio bene» in codice Morse, come faceva con sua madre. E sarebbe stato piuttosto imbarazzante se i suoi amici avessero capito. «Ma è solo una coincidenza, giusto?» L'espressione di Frank non lo rassicurò. «In Cina, ai vecchi tempi, la gente chiamava Mese Fantasma il settimo mese», spiegò Frank. «Era il mese in cui il mondo degli spiriti e il mondo degli uomini erano più vicini. I vivi e i morti potevano spostarsi avanti e indietro. E noi stiamo cercando le porte della morte durante il mese fantasma. Ditemi che è una coincidenza. Nessuno fiatò». Leo avrebbe voluto convincersi che una vecchia credenza cinese non potesse avere nulla a che fare con i greci e i romani. Tutta un'altra storia, giusto? Ma l'esistenza stessa di Frank era la prova del profondo legame che esisteva fra le culture. La famiglia Giang risaliva all'antica Grecia. Erano vissuti a Roma, in Cina e infine erano giunti in Canada. Come se non bastasse, Leo ripensò all'incontro con la dea Nemesis sul Great Salt Lake. Nemesis lo aveva chiamato la settima ruota, l'escluso dell'impresa. Non intendeva dire settimo nel senso cinese di fantasma, vero? Jason premette le mani sui braccioli della sedia. Concentriamoci sulle cose che siamo in grado di gestire. Ci stiamo avvicinando a Bologna. Forse avremo altre risposte, una volta trovati Nannick e Ecate. All'improvviso, la nave sbandò come se avesse colpito un iceberg. Il piatto con la colazione di Leo scivolò lungo tutto il tavolo. Nico cadde all'indietro dalla sedia e picchiò la testa contro la credenza. Crollò a terra, subito sepolto da decine di calici e vassoi magici. Nico! Eisel corse ad aiutarlo. Ma che... Frank cercò di alzarsi, ma la nave beccheggiò nella direzione opposta e lui crollò in avanti, finendo con la faccia, nel piatto di uova strapazzate di Leo. Guardate! Jason indicò le pareti. Le immagini del campo mezzosangue tremolarono, cominciando a mostrare qualcosa di diverso. «Impossibile!» mormorò Leo. I muri incantati non avrebbero dovuto poter mostrare altro che le scene del campo, ma all'improvviso un volto enorme, dai lineamenti deformati, riempì tutta la parete di babordo. Denti giagli e storti, una barba ispida e rossa, un naso bitorzoluto e due occhi male assortiti, uno molto più grande e più in alto dell'altro. Il viso sembrava volersi fare strada a morsi nella stanza. Anche le altre pareti tremolarono e iniziarono a mostrare scene di quanto stava accadendo sul ponte. Piper era al timone, ma c'era qualcosa di sbagliato. Dalle spalle in giù era avvolta in un bozzolo di nastro adesivo, aveva la bocca imbavagliata e le gambe legate alla console. Sull'albero maestro anche Edge era legato e imbavagliato, mentre una creatura dall'aspetto molto bizzarro, una strana combinazione fra un ognomo e uno scimpanzé, dai gusti alquanto discutibili in fatto di vestiti, gli ballava intorno, impegnata in un'attività ancora più bizzarra. Pettinare i capelli del satiro, realizzando minuscoli codini, stretti con elastici rosa. Sulla parete di Babordo, il brutto e gigantesco faccione si allontanò un poco. Leo riuscì a vedere la creatura per intero. Un altro gnomo scimpanzé, vestito in modo ancora più assurdo? La creatura si mise a saltellare sul ponte, piccando in un sacco di tela gli oggetti che trovava. Il pugnale di Piper, la Wii di Leo. Poi tirò via la sfera di Archimede dalla console di comando. «No!» urlò Leo. «Ai! Ai!» gemette Nico da terra. «Piper!» gridò Jason. «Scimmia!» strillò Frank. «Non sono scimmie!» disse Hazel. «Demo che quelli siano i nani!» «Stanno rubando le mie cose!» urlò Leo, precipitandosi verso le scale.